Oggi vediamo insieme quali sono i significati della parola italiana ciabatta. Queste che vedete sono delle ciabatte, delle calzature che si indossano quando si è a casa per stare comodi. La ciabatta è anche un tipo di pane come questo qui, molto buono. Anche questa è una ciabatta, infatti la ciabatta in italiano può anche essere una multipresa elettrica.